Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, allora, oggi parliamo non di un post-partita ma di due post-partita. Juventus-Brescia e il big match Lazio-Inter. Prima parliamo della nostra amata Juventus. Allora, c'è poco da dire per questa partita, Ronaldo non ha giocato, ha voluto riposare. Un attacco con Dybala e Guain. Pare che si stessero giocando bene quei due accanto. L'unica nota positiva è che è rientrato il mitico Giorgio Chiellini. Era da cinque mesi fuori, non quattro, cinque. Non vedevo d'agosto Giorgio Chiellini. Quando si è operato al ginocchio, quando ha segnato con Giorgio Parma al Tardini. Allora, le reti di Dybala e di Quadrado. Questo ci fa tornare a vincere ma il Brescia quanto è scarso. Mi sa che è una delle squadre più scarse in Serie A il Brescia. Mi sa che andrà in Serie B il Brescia. Lo dico già da adesso. Allora, hanno fatto fatica a portarsela a casa perché le squadre piccole si devono salvare. Per questo sono sempre chiusi in difesa. Questa è la pura verità. Adesso parliamo del Lazio-Inter. E l'Inter perde, oddio! Chi scarsi! Mamma mia! Sono morto dalle risate! Hanno insultato al gol di Ashley Young, il primo gol nero azzurro! Il bordello ha t'ho fatto! E si sono passati la cresta. Poi pareggia la Lazio con Ciro Immobile, 1-1. E poi Sergei Milinkovic-Savic, 2-1 Lazio! Che si porta a meno uno sulla Juventus. E a meno due sull'Inter. E a più due sull'Inter, va, in questo scontro diretto. Questa è stata una partita giocata alla pari. Oh, quando ci sarà Juventus-Inter, vediamo se andremo a più 6 su di loro. Oddio, di nuovo 10! Cioè, salutate la capolista! Faccio il pe-pe-pe! Faccio il pe-pe-pe-pe! Stai giù, Inda! Stai giù! Ariadici, Antonio Conte! Aghiacciate quello che dicono! Stop! Se questo video di oggi vi è piaciuto, vi invito che lasciate un mi piace, di commentare qua sotto, condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete ben iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo presto per i miei prossimi video. E forza Juve! E Ariadici, Inda! Ciao, belli!